c'è da inseguire un sogno Cesena e Reggiana si affrontano seconda e prima della classe del girone B per quello che è un obiettivo importantissimo e quello che vedete è lo spettacolo dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena più di sedicimila spettatori per questo scontro diretto al vertice buonasera da Giuseppe Galati Mario Somma lo spettacolo lo stanno dando i tifosi nel prepartita Mario non poteva essere altrimenti assolutamente Giuseppe è una partita bellissima dal punto di vista tecnico e ancor più impreziosita da quello che è lo spettacolo che il pubblico riesce a dare è un derby è un derby molto sentito lo dimostra la classifica lo dimostrano la qualità delle due squadre in campo e obiettivamente solo chi non conosce Cesena può rimanere e Reggio naturalmente può rimanere sorpreso da quello che è lo spettacolo di questa sera noi che lo conosciamo sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando e naturalmente tra pochissimo lo spettacolo lo dovranno dare le due squadre sul terreno di gioco intanto andiamoci a sentire i due tecnici intervistati poco fa nel prepartita da bordo campo dal nostro massimo proietto Aimo Odiana allenatore della Reggiana grazie a tutti